Diciamo che dopo 4 anni di perdita, giustamente io ho fatto un passaggio l'anno scorso nell'assemblea del 2013 e ho detto, signori, col cambio della direzione, i miei soci, ho detto guardate che vi prometto, mi impegno a portare a pareggio, se non un piccolo utile, l'azienda. Ovviamente a fronte del risultato di quest'anno, che è frutto del fatto che la situazione economica non si sta modificando, anche un po' per gravi carenze della politica, che per le aziende e per l'economia reale ha fatto poco, ha fatto poco, ci troviamo a registrare l'ennesima perdita e questo mi mette fortemente in imbarazzo, io ho una dignità, sono conosciuto nel mio territorio, sapete che la mia famiglia ha un'azienda che dà 350 dipendenti, quindi non posso passare davanti a questa situazione se non accettando un'ipotesi di ricambio dell'azienda per cui oggi nel pomeriggio rassegnerò le dimissioni da Presidente di Credi Veneto.